Andiamo oltre l'oceano e torniamo nel Novecento, ascolteremo adesso un brano famosissimo, conosciuto anche perché è molto spesso udito come colonna sonora di film, ed è sicuramente uno dei brani più celebri di Gershwin, suonerà per noi Gianmarco Fratta nella vita a un impiegato e suonerà per noi la Rhapsodium Blue di Gershwin. Gianmarco Fratta. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti